nonostante tutto il governatore della California rimane sulla poltrona la citazione di apertura è tratta dal libro di Isaia guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro questa settimana la settimana appena trascorsa in California vi è stata la tentativa di sostituire questo signore qui l'attuale governatore perché la legge della California prevede la possibilità di richiamare un governatore quando fa delle cose che sono contrarie all'interesse della popolazione ebbene udite udite questo signore di cui ci siamo anche già occupati in qualche contributo precedente facendo vedere che mentre imponeva alcune tra le misure più restrittive negli Stati Uniti lui insieme all'altro suo bel compare nello stato di New York ebbene nonostante questo organizzava i suoi festini con amici amichetti senza maschere al sole le solite cose che ormai chi vuole vedere vede chi non vuole vedere del resto cose che non arrivano mai ai grandi mezzi di disinformazione non so neanche se in Italia abbiano passato questa notizia della rilezione forse neanche questo anche se è un trionfo per la demenza collettiva però forse non l'hanno passata perché meglio non mettere in testa brutta idea alla gente ebbene Gavin Newsom così si chiama questo signorotto è purtroppo stato rieletto ma non anzi è stato confermato non è stato confermato con una maggioranza da poco i voti per mantenere Gavin Newsom nella sua carica sono quasi il doppio rispetto a quelli che volevano che lasciasse la sua posizione questo fa capire come la situazione anche culturale in cui il pianeta oggi si trova io qui ho preso quest'immagine ironica per dire ai miei amici californiani congratulazioni adesso avete raggiunto il picco della stupidità stupidità di gregge come è possibile che un'intera popolazione che tanta parte della popolazione votante in un stato come la California dove i problemi ormai sono inimmaginabili abbiamo anche fatto vedere qualche contributo fa l'incremento solo in una città del 30% degli omicidi del 50% degli scassi negli appartamenti degli scassinamenti di appartamenti una percentuale che più o meno si riverbera in tutti gli Stati Uniti dove c'è circa un aumento secondo fonti della polizia del circa il complessivo del per tutto il paese del 20-22% negli omicidi vuol dire una situazione sociale che si aggrava di fronte agli occhi di tutti e grazie soltanto al supporto dell'apparato di disinformazione questo riesce a restare in carica mentre come abbiamo visto la governatrice alla governatrice del Michigan hanno tolto i poteri per autorizzare un altro lockdown stati come il Texas o la Florida non hanno nessuna intenzione di iniziare di nuovo il balletto della pandemia e il presidente demente perché guardate qui possiamo anche fare qualche previsione per il futuro senza tanti patemi questo presidente non rimarrà in carica fino alla fine su questo il nuovo presidente sarà la signora vicepresidente al momento perché voi in Italia ad esempio non arrivano i video non arrivano i discorsi che questo presidente fa arrivano soltanto quei momenti tagliati in cui sembra cosciente consapevole ma in realtà è non compost mentis e dunque è solo una questione di tempo affinché verrà invocato il 25esimo ammendamento della costituzione americana per sostituirlo per incapacità mentale questa è una delle tante cose che si possono già vedere perché il problema dell'elezione californiana è un brutto un brutto risultato per per le minoranze pensanti rimaste ormai nel pianeta è brutto perché un'altra data importante in questo momento in questa vicenda della pazzesca pandemia sono le elezioni tedesche del 26 settembre c'è un elemento diciamo che dovrebbe magari portare un aumento di consapevolezza nelle persone che è il fatto che negli Stati Uniti all'inizio di settembre non sono stati rinnovati i privilegi di disoccupazione e questo creerà ancora maggiori disagi disastri sociali problemi crimine dunque è una situazione che diventerà sempre più visibile però il vero nodo soprattutto per l'Europa è quello della Germania per il 26 di settembre e questo se come è da ritenere questi criminali che hanno che stanno che stanno andando apertamente contro le libertà fondamentali contro le costituzioni contro la democrazia contro contro il senso comune ed il ragionamento verranno premiati così come è stato premiato Gavin Newsom si aprirà una nuova fase che che non possiamo prevedere appieno ma che non è una una buona svolta per per i rimanenti pensanti io ogni quando leggo le notizie che provengono dall'Italia mi provo molto 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 dispiacere ma anche sono molto vicino a quegli italiani che sono rimasti capaci di pensare capaci di di difendere la loro sanità mentale di di opporsi ad un ad un governo che è inqualificabile però capisco anche le enormi difficoltà in un paese in cui la demenza è facile da far prosperare perché manca appunto quel retroterra culturale per potersi difendere dalla demenza è tutto lì il problema è sempre sempre lì continuiamo sempre a ribadirlo ma ripetita Juvent in questo caso e l'Italia non è un paese che è passato da una condizione agraria di primitivismo ciociaro potremmo dire fino alla distribuzione di titoli di studio come caramelle senza che vi sia stata una fase di crescita del tessuto culturale che è rimasto quel tessuto ciociaro però imbellettato e ripulito e questo è un problema grave che si di adesso con forza attenzione questo processo di debilitazione della cultura non è semplicemente italiano però se magari altri paesi avevano già un retroterra intellettuale più solido l'Italia non l'ha mai avuto ha avuto sempre degli isolati studiosi delle sedi di pensiero piccole minuscole minacciate se noi vogliamo l'esempio più eclatante ancora oggi vero della cultura italiana è Dante costretto in esilio cacciato braccato e che produce appunto uno dei più importanti capolavori culturali della storia umana e questa è in veramente in due parole è proprio la situazione della cultura italiana che è rimasta invariata oggi infatti si confonde una delle cose qualche giorno fa leggevo uno di questi stucchevoli contributi della disinformazione in cui questo Bassetti diceva per diventare Bassetti ci vuole aver studiato questo aver fatto questo essere stato di là essere stato di qua e tutto quello di cui lui parlava tutti dieci anni qua questo là erano tutte certificazioni erano tutti processi di vidimazione e lui se ne vantava come se fosse una cosa poi magari non sa mettere due parole insieme però questo non conta non lo vediamo più perché si confonde la certificazione con la contribuzione perché uno dovrebbe dirgli sì ma tu che hai fatto tutte queste cose poi esiste un non lo so hai identificato un batterio hai guarito una grande malattia hai capito come funziona un meccanismo no però io ho fatto questo ho la carta di qua ho il certificato di formazione di là ho quest'altro e questa stessa gente che non ha contribuzioni che non ha contributi effettivi ha scusate ha scritto non so settecento pubblicazioni ecco questa è l'orgia delle pubblicazioni settecento pubblicazioni che non significano nulla che non contribuiscono anzi che non soltanto non contribuiscono ma che danneggiano il discorso culturale il discorso scientifico pensate uno ne abbiamo già parlato ma la iperproduzione di informazione rende difficile districarsi e capire e trovare quei percorsi che davvero contribuiscono rispetto a quelli che invece stanno soltanto facendo fuffa stanno soltanto facendo aria fritta stanno appunto creandosi un curriculum per poi dire lei non sa chi sono io io sono bassetti e posso dire ad un premio nobel come montagné che sbaglia mentre io ho ragione perché hai ragione perché ho questa certificazione guarda che quello ha fatto studi quello ha contribuito un po' alla scienza se tra 500 anni secondo te al tuo nome magari lo ricorderanno gli storici come 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 si ricordano altri nomi di altre epoche terribili della storia italiana ma non certamente per la tua contribuzione per l'esatto contrario così come è straordinario vedere quando queste persone che stanno a mezza strada che magari capiscono ma non capiscono nel senso vedono che tutto quello che sta avvenendo è leggermente pazzesco però non vogliono sbilanciarsi perché hanno appunto sono legati a determinati circoli sono legati a determinati gruppi non vogliono magari sfigurare con gli amici non vogliono che il collega perché il collega è importante lo possa accusare dire sei quelle paroline che la disinformazione mette nella testa della gente per evitare di fare un discorso allora che cosa fanno quando fanno una piccola crisi critica dicono io sono premetto che sono inoculato e guardate se uno lo guarda se uno prende questa affermazione al di là della miseria della pochezza umana intellettuale di chi ha bisogno di dichiarare una sua condizione medica prima di parlare lasciamo perdere questo aspetto ma ci si accorge anche che questa è una nuova professione di fede e su tutto questo questo trita carne della politica ma anche questa distruzione del discorso politico avvengono anche dei fatti adesso io non so se in Italia questo è stato riportato però questo ad esempio è un fatto anche in sé estremamente grave che è appena avvenuto secondo cui la Francia per la prima volta nella storia non era mai successo prima richiama gli ambasciatori dagli Stati Uniti e dall'Australia per una piccola bega una bega di vendita di sottomarini nucleari perché gli americani gli hanno venduto i sottomarini agli australiani mentre questi avevano un contratto con la Francia immaginate il grande livello però vedete una delle cose che perché perché citiamo questo fatto innanzitutto appunto per far vedere proprio la pochezza della nostra epoca ma anche per far vedere come mai uno Stato nelle mani di di un signorino che è cresciuto all'ombra dei poteri finanziari richiama fa un atto così grave che non l'ha mai fatto nella sua storia perciò insomma motivo ci sarà che non è una cosa da poco gli ambasciatori da due alleati per difendere gli interessi interessi commerciali di qualche gruppo che che gli sussurra all'orecchio però in questo caso lo capiamo mi pare evidente per altri casi non lo capiamo altri casi dove ci sono anche storie pregresse se uno va a vedere tutto l'affare tutto lo scandalo dell'ex ministro Lorenzini della della sanità quello che venne inquisito venne condannato a pagare una come si chiamava Lorenzini mi pare che questa quella era Lorenzoni insomma avete capito quello che venne inquisito per aver introdotto la vaccinazione obbligatoria per l'epatite B che poi che se ne va via da sola normalmente che è un tipo di malattia che scompare da sé però lui ha inserito questa questa vaccinazione obbligatoria che avrebbe dovuto essere discussa invece anzi è stata utilizzata adesso come piede di porco per fare altri discorsi ebbene questo venne condannato insieme vi ricordate vi ricordate questo era il famoso caso con Poggiolini chi non sa chi era Poggiolini lo prego davvero di andare a guardare online quello che aveva a casa i cuscini pieni di banconote le monete d'oro nei vasi che non sapeva più dove mettergli questi soldi per tutte le tangenti che prendeva per approvare farmaci per le case farmaceutiche tutto questo non lo abbiamo dimenticato perché non è non lo sapevamo anche anche l'ultimo dei dementi se tu gli dici Poggiolini sa che era che era un profittatore un ladro un delinquente condannato portato al carcere la famosa storia con la moglie e tutto il resto dimenticato è completamente rimosso poi escono fuori vicende di sottomarini di altri affari in cui la politica viene utilizzata come arma di ricatto commerciale guardate che sono sono cose che se noi vivessimo in una normalità mentale dovrebbero sollevare non pochi scandali invece non sollevano nulla anzi forse la notizia non viene neanche ribadita al di là poi vedete questo è l'aspetto commerciale ma pensiamo poi all'aspetto politico il grave aspetto politico di questa vicenda il fatto che si armino gli australiani un paese che sta dimostrando un gregariato rispetto a questa questa narrativa pandemica che è spaventoso un paese che sta davvero introducendo sta tornando come disse un commentatore nella televisione americana al suo stato originario di colonia penale in nome chiaramente del nostro benessere perché tutte queste cose vengono portate avanti dicendo è per il nostro bene uno a questo punto dovrebbe dire senti puoi occuparti di qualcos'altro perché per il mio bene ci penso da me non ho bisogno che tu distrugga tutto quello che ritenevamo fondamentale per un'esistenza civile per difendermi del resto c'è ormai una spaventosa crisi tra l'andare ordinario del mondo e le forme della politica del resto è proprio perché si considerano le persone come cavie o come carne da cannone che li si espone così facilmente ad un trattamento sanitario sperimentale perché tanto non importa ebbene dicevamo in questa questione uno degli altri aspetti problematici dell'armamento nucleare che viene di questi sommergibili dati all'Australia e che sembra rientrare in una strategia aggressiva nei confronti della Cina una strategia che nessuno di noi vuole nessuna persona normale sana di mente vuole andare per quale motivo siamo sempre lì questi giochi che vanno non soltanto al di sopra delle teste delle persone ma anche a discapito della gente in Cina della gente in America della gente in Europa e noi siamo lì ad applaudire pronti bravi vediamo i preparativi e non possiamo farci niente perché ci sono perché c'è un meccanismo della disinformazione che quando tu stai guardando a tutto questo ti dice no no guarda dall'altra non guarda ma tu stai vedendo adesso che stanno dando delle manganellate a uno ma guarda che lo fanno per il suo bene e guarda che stanno mettendo delle armi atomiche in dei summergibili nucleari in Australia ma anche questo è per il bene dell'area per mantenerla più stabile Biden il presidente tedemente ha spostato uno dei suoi primi atti della sua presidenza è stato quello di spostare dei bombardieri strategici nucleari in Norvegia sempre vicini alla Russia e di tutto questo la gran parte dei cittadini che in questo momento stanno bardati per i quali il problema è quello che gli passa ogni giorno la televisione la disinformazione impazzita tutto questo non avviene e invece avviene potremmo appunto ormai i sintomi le situazioni sono così gravi ad esempio penso sia ormai chiaro a tutti quello che sta avvenendo nell'Afghanistan com'è possibile che questi vanno via e lasciano un miliardo di equipaggiamenti militari nelle mani dei talibani che cosa vogliono? vogliono destabilizzare quella zona altre altre altri io quello che dico molto spesso è se questa gente tutta questa intelligenza malvagia la utilizzasse per fini benefici noi vivremmo in un mondo quasi da sogno invece non fanno altro che perpetuare un modello di dominio e di distruzione che è tanto antico quanto assurdo questi sono ancora faraoni questi sono ancora il faraone poi magari chiuderemo questa cosa con un riferimento al re dei babilonesi infatti propongono la normale come normale adesso non parliamo più di questa la benda eccetera chi non ha capito fino a questo punto basta lasciamolo stare perché non è che le informazioni non vi fossero pensate questo è un articolo scritto da questa coraggiosa ma anche onesta decente dottoressa che si chiama Christine Held la quale proprio nell'autunno del 2020 non è di ieri non è di adesso è dell'autunno del 2020 ha scritto questo un saggio molto bello che consiglio di andare a vedere qui c'è il link del pdf di tre pagine in cui scrisse proprio il numero dei il conteggio dei casi corrente per il per la pandemia del secolo del millennio fate voi i numeri di ospitalizzazioni e i conteggi della mortalità non hanno alcun senso are meaningless senza senso nella loro forma fluida corrente la loro malleabilità serve primariamente coloro i quali vogliono distorcere la realtà e poi continua per tre pagine documentate con dati elementi voi pensate che qualcuno nella disinformazione abbia riportato questo questo importante saggio la risposta la conoscete pensate che in italia qualcuno di quei quegli infimi miserabili esseri esseri respiranti si siano preoccupati di questi discorsi fatti da una persona seria c'è una vicenda molto una storia di tanto tempo fa in cui il un ragazzo ride di un buffone e il genitore che aveva vissuto la guerra la seconda guerra mondiale gli dà uno scappellotto il ragazzo dice ma perché e il padre gli dice non si ride dei buffoni perché sono le persone più pericolose che qui siano al mondo era ovvio che lui si riferiva ai buffoni a buffoni come Hitler o Mussolini ma nella storia recente italiana abbiamo un buffone che ad esempio sta consentendo la situazione che tramite il suo ingresso in politica la situazione in cui il paese si trova e i buffoni non sono pochi avere buffoni al posto delle persone serie porta appunto ad uno stravolgimento ad un'immersione della realtà della socialità della verità dei fatti che ha conseguenze gravi e pesanti quindi pensate solo una cosa così soltanto per ipotesi un'ipotesi la facciamo e basta sapete io quando andavo dal medico prima del 2020 e gli dicevo mi chiedeva cosa prende e gli dicevo io prendo in genere l'aspirina l'aspirina quasi si strappava le vesti l'aspirina può creare delle delle perdite di sangue nello stomaco delle emorragie nello stomaco questo e l'altro sì lo so questo lo leggo dalle controindicazioni però questo se la prendi a stomaco vuoto io in genere la prendo mangio sempre qualcosina prima di ingerire un'aspirina comunque è un farmaco che ormai ho usato una medicina che ormai è usata da oltre un secolo dunque ha una certa adesso di fronte ad un farmaco che è sperimentale non ci non si strappa più la vesti adesso adesso è il sacerdote della della nuova normalità ed è l'impazzimento generale a cui siamo arrivati e adesso faccio dico queste ipotesi ammettiamo proprio come ipotesi perché nella scienza si fanno ipotesi le ipotesi si possono sempre fare nella scienza si devono anzi fare ammettiamo che vada tutto bene ok ma non sembra che stia andando tutto bene se uno va a guardare i dati degli effetti collaterali non sembra che stia andando tutto bene e poi vabbè c'è quello che dice sì però per me no vabbè sarà pure io sono pure contento ammettiamo che possa andar peggio di come sta andando mettiamo che vi sono degli effetti delle delle controindicazioni che non sono ancora note che emergeranno tra uno due anni quello che lo so che ci sono quelli che già stanno dicendo no non è possibile perché quelli che hanno la sfera di cristallo ma ammettiamo per ipotesi che questo sia possibile dopo l'inoculazione di da quei dati che abbiamo guardato di recente oltre 5 miliardi di persone ma voi riuscite ad immaginare il tipo di catastrofe che si prospetta ma non ci pensa nessuno siamo tutti così convinti di questo di questo neogeovismo non non poter non pensare neanche l'ipotesi se io compro una macchina compro una macchina nuova la prima domanda che gli faccio al quello al rivenditore al concessionario gli dico scusi ma se quando io esco mi si scassa non lo so il cambio mi scoppia una ruota che cosa faccio non è che quello mi dice lei è un pazzo capisce che sto facendo un'ipotesi e mi dice no per questo c'è questo c'è questo servizio c'è la garanzia c'è quest'altro mi dice lei è un negatore della macchina non me lo dice perché non è ancora nessuno lo ha fatto uscire fuori di senno mi potrebbe dire la macchina è nuova improbabile che succeda io gli dico sì per carità però sa nel caso in cui oggi il discorso del nel caso in cui se lo fai anzi devi prima premettere fare la nuova professione di fede anche queste sono cose che mostrano il ridicolo appunto il ridicolo è prodotto dai buffoni il ridicolo in cui è stata gettata la società in cui è stato gettato l'individuo contemporaneo e proprio perché stiamo parlando di scienza il più importante epidemiologo del mondo il professor Ioannidis ha pubblicato proprio il 9 di settembre questo bellissimo articolo ma davvero bellissimo in cui parla dei modi in cui questo delirio mass mediatico sta trasformando le norme della scienza e lui avvisa vede giustamente in questo qualcosa di pericoloso ed avvisa contro e una delle cose che chi segue questi modesti contributi potrà magari ricordare questo lo diciamo da tempo una delle frasi con cui inizia l'articolo del professor Ioannidis scrive uno dei problemi con questo nuovo impegno nei confronti della scienza questi testimoni della scienza è che la gran parte delle persone incluso la gran parte delle persone in occidente non sono mai state seriamente esposte o non hanno mai seriamente venute a conoscenza delle norme fondamentali del metodo scientifico esattamente questo uno dei problemi centrali che quelli che fanno che blatterano se tu gli dici me la risolvi un'equazione differenziale non sanno cosa sia se tu gli dici ma mi dici qualcosa sul metodo scientifico come funziona il metodo scientifico funziona che uno dice una cosa e siccome la dice in televisione questa diventa vera non funziona così questo è il metodo della barbarie è il metodo della disinformazione della propaganda non ha nulla a che vedere con la scienza e Ioannidis scrive questo anche qui metto il link che è un articolo davvero importante però ovviamente questi sono i discorsi che fanno le persone razionali che fanno gli scienziati di di grande rilevanza perché vedete una delle sfide che io faccio a tutti i dementi che stanno lì e gridano scienza scienza gli dico ok ma tu mi dici quanti premi Nobel si sono espressi così che si sono appunto lacerati le vesti a favore di tutta questa buffonata quanti sono ah ma c'è il professore dell'istituto di Milano c'è il Bassetto c'è l'altro sì ma non sono premi Nobel mentre di quelli che si sono espressi in maniera apertamente contraria già ce ne sono due dunque secondo te la scienza dove sta nel primario dell'ospedale di Genova o nel premio Nobel chi è che secondo te magari ha un una capacità analitica un po' più elevata ma queste cose come continuiamo a ripetere il cittadino disinformato non le sa perché nessuno si prende la briga di dirghele di raccontarghele anzi tutto quello che il cittadino vede online vedremo poi un straordinario una straordinaria nota di un'altra scienziata viene calunniato diffamato come se io ho bisogno vedete nel momento in cui uno mi comincia a diffamare una fonte e mi dice tu non la devi ascoltare questa fonte quello che in realtà mi sta dicendo è tu sei incapace di valutare secondo ragione perché se io sono io voi sapete uno dei miei hobby è quello di divertirmi con i terrapiattisti perché io li trovo divertenti perché ci si impara anche molto su come si sragiona e questo e l'altro ma se qualcuno mi dicesse non li devi ascoltare perché quelli dicono una cosa assurda la prima cosa che io gli direi è dire ma tu che cosa pensi innanzitutto chi ti credi di essere ma io sono il tuo presidente io sono il tuo primo ministro sì ma tu sei il primo ministro perché sei chiamato lì per fare la volontà del popolo non per fare i fatti tuoi non per dire al popolo quello che deve fare è il popolo che ti dice a te quello che devi fare giustamente capisco la contraddizione in tutto questo perché quando io quando chi detiene i mezzi riesce a determinare una campagna di disinformazione su questa scala è evidente che ha la capacità di manipolare elementi della gente a credere appunto che il basso è alto l'alto è il basso vedete vi ricordate perché ho messo questa frase proprio all'inizio del nostro discorso perché innanzitutto non c'è niente di nuovo questo è un punto importante che ribadiamo sempre qui non c'è niente di nuovo se già lo scrive Isaia non c'è niente di nuovo tranne i mezzi che vengono utilizzati ma cosa dice Isaia guai a coloro che chiamano bene il male male il bene che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenetro che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro che cambiano la verità in menzogna e la menzogna in verità che utilizzano la scemenza per sovvertire la società e per acquisire poteri e denari guai a costoro e lo dice già Isaia dunque nulla di nuovo ancora una volta perché dicevamo anche di fronte a discorsi seri sensati ragionati autenticamente scientifici non la scienza dei quattro buffoni in televisione questi hanno metodi di manipolazione che soppiantano il discorso razionale vedete questa è una bellissima immagine sul appunto il modello di manipolazione pubblica relativa alla pandemia del millennio in cui ci sono questi criceti e poi c'è nuova variante aumento dei casi lockdowns più altre restrizioni inoculazione o altre altre inoculazioni in Israele si parla già della quarta piccola riapertura periodo estivo questo è l'altro momento di pausa poi nuova variante hanno 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 trovato il loro perpetuum mobile il loro moto perpetuum che che appunto è una cosa che può funzionare sui criceti sulla demenza ma se uno è in grado di fare due più due dopo due anni continua ad essere dentro questa mentalità settaria vuol dire che è pronto per i testimoni di Geova per Scientology per tutte quelle robe lì ma certamente non può dirsi persona razionale e come hanno fatto notare alcuni guardate questa è un'osservazione molto bella di un giornalista svizzero che si chiama Milos Matuszek il quale scrive io ho preso questo passo da un suo articolo e significa diciamocelo onestamente andate volentieri a fare compere non importa in quale supermercato entriate in questa situazione questo lo sto aggiungendo io entrate in un luogo in cui viene condotta una guerra psicologica ecco ecco vedete noi pensiamo vedete questi questi signorini sono riusciti a trasformare i luoghi della socialità in luoghi del condizionamento e controllo psicologico in cui il cittadino controlla l'altro in nome appunto di paure immaginarie e l'elemento della paura forse avrei dovuto mettere quella slide prima va bene ma andiamo andiamo scusate l'ho messa forse in un ordine non giusto ma andiamo alla slide ecco questo è l'elemento della paura chi controlla la paura delle persone diventa il padrone della loro anima vi lascio cercare da voi chi ha detto questa frase e ho voluto mettere qui una foto di questo ramarro che lo mostra una delle rare foto che lo mostra il vero viso se voi vedete infatti le immagini che trasmette la disinformazione sembra sembra quasi angelico sembra sembra che sia che stia per per ascendere in cielo invece questo è il suo vero volto di questo non eletto ebbene al di là della paura che vedete la paura che serve per controllare adesso cominciano a tirare fuori un po' ovunque Stati Uniti Italia Germania Francia ogni tanto c'è qualche notizio c'è uno che persino il papa attenzione se noi appunto avessimo ancora un po' di sanità mentale capiremmo che come un papa che quasi compiaciuto parla di un cardinale che è stato male ha ripetuto queste parole sul dal ritorno dall'andata in questo suo viaggio il papa ha detto sì ma c'è anche uno di questi cardinali che poi adesso si è rimesso ma l'ha detto con un tono come eh l'hai visto un papa congratulazione questo è anche molto bello appunto una manipolazione che ormai è così perfida ma anche così chiara vedete chi ormai non è soltanto chi ha studiato questi fenomeni chi se ne è occupato chi che ha un occhio attento ormai anche chi non ce l'ha riesce a vedere dietro questi discorsetti che continuano ad essere fatti un po' in tutte le lingue e qui ad esempio lamentandosi di quelli che sono quella parola lì che hanno inventato no quelli che si rifiutano insomma di farsi inoculare una sostanza sperimentale proprio perché questo è un fatto criminale volersi rifiutare non soltanto volere anche che i bambini non non vengano sottoposti a questi sconci ebbene hanno fatto questa intervista in Germania dove hanno fatto parlare appunto una di queste esperte che ha tanti certificati ma nessuna contribuzione e dice e la quale ha detto in questa intervista tra questo gruppo di questi qui di questi folli di queste persone irrazionali dalla cui parte stanno ormai 450 professori universitari medici medici che sono giovani medici che si laureano summa cum laude premi Nobel insomma questo gruppo proprio di di folli di mattoidi mentre questi sono i bravi perché hanno accesso al giornale in questo gruppo ci sono tra gli altri molte donne giovani persone con una attenzione con una con una scarsa istruzione perché vedete voi non lo sapevate ma questa questa autrice questa batch questa lei sa che quando si hanno due premi Nobel si ha una scarsa istruzione 450 professori universitari in Italia devono essere licenziati perché hanno una scarsa istruzione poi autori storici tutti scarsa istruzione però chi ha l'accesso alle gazzette quelli stanno nell'Olimpo questi sono messaggi anzi dovremmo cominciare a chiamarli messaggi dall'Olimpo la vergogna ormai non ha più non ha più luogo dove andare persino la vergogna si vergogna ormai tranne questi 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 non so come come dobbiamo definirli questi questi esseri respiranti e la massa dei dementi sui quali fanno presa e poi la cosa che a me ha colpito di questo articolo è che dice anche i tedeschi dell'est e le persone con un con un retroterra di migrazioni migrazioni possono essere contati in questo gruppo di cattivi gente senza istruzione questo e l'altro che devono ancora essere raggiunti dal Vangelo dal Verbum ebbene in questa in questa frase vedete com'è se uno li sa leggere questi questi piccoli propagandisti da strapazzo vede anche che confessano perché i tedeschi dell'est a parte il fatto che la Germania dell'est non esiste ormai da oltre un trentennio e questi ancora hanno queste categorie quando gli conviene la categoria di tedesco dell'est rimane quando non gli conviene la categoria di uomo donna deve essere fatta scomparire vedete vedete i livelli a cui noi siamo siamo proprio a livelli di negazione totale della realtà ma al di là di questo perché se la prendono con i tedeschi dell'est che cosa c'è di particolare nei tedeschi dell'est rispetto ai tedeschi dell'ovest non sarà forse che i tedeschi dell'est una dittatura l'hanno già vista e vissuta e dunque hanno magari delle antenne che sono un po' più acute dei tedeschi dell'ovest che sono stati cresciuti nella bambagia che sono stati educati ad essere homoconsumens non sarà forse questo il motivo per il quale se la prendono con questi e anche il motivo per cui questi sono più attenti e reagiscono e resistono di più forse che questi la conoscono la propaganda la conoscono la tirannide così come quella lettera importante dei sopravvissuti della Shoah che hanno scritto al lema è uscita da qualche parte in qualche gazzetta italiana qualcuno ne ha parlato uno dei documenti più importanti che siano usciti in questa in questa vicenda ah no però parlano del leader ecco quella la parola che hanno inventato perché poi vedete questa storia della della pandemia non pandemica si può anche narrare sulla base delle parole che utilizzano delle parole che trasformano e trasformano o inventano e poi gettano via adesso quel termine la falsa applicazione del termine negazionista a coloro che contestano razionalmente le norme di una politica impazzita di una stampa venduta quella l'hanno l'hanno messa da parte e adesso hanno tirato fuori questo termine che che e che è una traduzione attenzione dall'inglese il messaggio arriva il copione arriva dagli stati uniti il copione anglosassone infatti anche la parola è anglosassone questo non è italiano questo non è un termine italiano ebbene e anche lì con un con un certo compiacimento si legge questo poveretto che ci ha rimesso la vita e la cosa più interessante è che questo fino all'ultimo ha resistito e poi ha anche parlato ha detto delle cose che in un altro momento avrebbero sollevato qualche dubbio qualche 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 indagine perché questo dice io stavo bene poi sono stato arrestato forse la parte dell'arresto l'hanno vedete qui la parte dell'arresto manca manca vedete mi incitava perché era in ospedale era stato prima arrestato lui ha dichiarato di essere stato maltrattato anche dichiarato di essere stato avvelenato adesso io non lo so io non lo so però so che c'è questo poveretto che viene arrestato maltrattato e qui l'unica cosa che si dice guarda che bello se non è sciacallaggio questo c'è neanche rimane poco da dire però dall'altra parte c'è la demenza collettiva che guardate non è soltanto una cosa italiana ci sono i dementi che utilizzano qui quando utilizzano i mezzi di internet per fare queste cose è tutto bene anzi giustissimo quando qualcuno li utilizza internet per propagare un po' di informazioni sulle quali poi la persona deve decidere autonomamente perché vedete chiunque produca dei contenuti e parlo anche qui in prima persona deve deve come proprio come codice suo etico tanto quanto il medico dovrebbe avere il primo non nocere del giuramento ippocratico chi produce contenuti dovrebbe avere come primo comandamento quello di non insultare ed offendere l'intelligenza di coloro che lo ascoltano o che la ascoltano ritenere che le persone sono in grado di valutazione analisi e giudizio razionale autonomi chi produce contenuti e vuol mettere in testa la gente delle cose quelli che come ormai ripetiamo da tanto tempo che vengono e vi dicono credi a me quelli sono fanno altro mestiere non stanno comunicando quelli stanno facendo propaganda manipolazione disinformazione ma il primo criterio qui è quello di stimare la capacità razionale di coloro che ascolta uno che già viene e ti dice credi a me non sta stimando non mi sta stimando perché sta partendo dal presupposto che lui conosce la verità e voi non la potete conoscere uno dei temi fondamentali anche nella divulgazione nell'insegnamento non è che chi insegna è migliore è più bravo no significa soltanto che si è dedicato ad un tema sul quale altri non si sono dedicati magari potrà avere tutta una serie di informazioni di conoscenze tecniche di capacità che altri specifiche che altri non hanno ma il suo compito come educatore è quello di portarle ad altri non di dire tu non sai chi sono io Bassetti ho questi tettecento pubblicazioni queste sono cialtronerie e anche gravi mancanze di rispetto io nella modestia di questi contributi voglio dire non credete mai a quelli che vi stanno mancando di rispetto perché già già lì c'è un problema ebbene perché qui appunto proviamo a mettere a disposizione dei contributi che altri non mettono a disposizione perché se la stampa non facesse disinformazione non ci sarebbe neanche bisogno di questi sforzi di metterci qui a leggere a tradurre a mettere insieme perché avreste già letto tutte queste cose senza bisogno di un pover uomo che ve le viene a raccontare ma ve le viene a raccontare voi siete voi che dovete fare la vostra valutazione razionale la vostra analisi ebbene quando l'internet viene utilizzata invece per dare addosso a quelli che dimostrano coraggio razionalità serietà spirito civico vengono calunniati tranquillamente questo questo è un'immagine di una palestra in New Jersey in cui il proprietario ha sfidato le restrizioni offrendo un abbonamento alla palestra gratis per coloro che non vogliono farsi inoculare la sostanza sperimentale ebbene qualche intelligentone ha diffuso questa cosa dicendo ed ecco che inizia è un nuovo giro di stupidità vedete lui ha capito lui o lei non so chi sia ha capito lui ha capito non vede ad esempio io in tutta la mia vita ho sempre visto chi dissente come una persona da sostenere una persona da da ascoltare perché il dissenso in qualunque senso è bello il dissenso razionale il dissenso soprattutto in questi casi il dissenso civile il dissenso sociale se non avessimo avuto dissenso saremmo ancora sotto i faraoni con la tiara che avevano un tempo adesso hanno altre forme ma se non vi fosse stato dissenso nella storia avremmo ancora la terra al centro dell'universo ed è anche un po' triste dover ribadire questi concetti che dovrebbero essere nel dna di una società civile molto triste e infatti io poi per rispondere a questa questa quel precedente geniaccio ho preso quest'immagine in cui si dice la stupidità è un virus causato dal guardare troppo la tv e le notizie di massa la disinformazione di massa i sintomi includono il dire agli altri di stare stay safe di stare a casa insomma proteggiti stay safe stay home stai al sicuro stai a casa è una butade però è carina è ben fatto questa immagine qui torniamo di nuovo a quell'immagine che controlla la paura delle persone diventa il padrone delle loro anime e io trovo molto significativo che una delle poche immagini che si trovino del viso reale di questo signore sia appunto una rara immagine fate il confronto guardate quello che presentano i mezzi di disinformazione sembra davvero che chissà quante calze mettono davanti la telecamera prima di inquadrarlo era il trucco per il quale venne criticato il Berlumponi quando iniziò la sua infausta e tragica avventura politica con la quale per molti versi ha segnato anche gli inizi di questa catastrofe in cui noi ci troviamo infatti non a caso il partito del Berlumponi è per tutti gli obblighi possibili vedete il partito per la libertà ma ditemi se questo non è Orwell un partito della libertà che è per gli obblighi per le restrizioni se non è questo Orwell io non lo so cos'è davvero dobbiamo andare a riscrivere 1984 io c'ho un partito che nel nome ci ha scritto partito della libertà perché cosa sei tu per le restrizioni e le chiusure scusa ma non ce l'ha scritto delle libertà sì però le libertà come le dico io sono restrizioni e chiusure e obblighi di inoculazione oppure questo è puro e semplice impazzimento con le t però ci sono sempre quelli che sono persone che mantengono la ragione questo è un altro bellissimo poster fatto da uno che ha chiamato questo gruppo il dipartimento del senso comune della Pennsylvania in cui molto spesso si vedono queste immagini in cui questi poster propagandistici in cui si dice la mia maschera dice io mi preoccupo degli altri e qui ci vorrebbe un bravo e questo qui del dipartimento del senso comune scritto no non significa questo la tua maschera dice soltanto che tu pensi di avere il covid 1984 che tu devi metterti da te stesso in quarantena per 14 giorni invece di affidarti ad una mascherina da poco conto una mascherina leggera una mascherina che non protegge nel fare questo sforzo a mezzo cuore la tua maschera dice soltanto che tu vuoi che le persone pensino che tu ti preoccupi di loro dice smettila con le stronzate e togliti la maschera è molto bello questo se noi potessimo avere tutti i messaggi della disinformazione con una spiegazione di quello che significano sapete come non ci troveremmo in questa situazione ma queste come dicevamo abbiamo ripreso Isaia proprio per iniziare questo modesto contributo non sono cose nuove non c'è niente di nuovo quasi niente di nuovo ci sono i mezzi che vengono utilizzati questo sì quelli sì nuovi televisione stampa radio eccetera già Chesterton un autore dalla penna molto acuta un anticonformista uno che si trovava molto spesso in dissenso con la narrativa generale in questa raccolta di saggi questa raccolta di saggi di Chesterton è stata intitolata in difesa della sanità della sanità mentale della razionalità mentre dall'altra parte c'è questo personaggio di cui io non che non considero che molti considerano molti ne parlano ma è uno di questi miliardari per me il miliardario è semplicemente un poveretto è una personalità che Freud definiva anale è un insicuro è uno che non è uno che lo dice molto bene Rick Fromm quando nelle sue memorie racconta che quando da bambino gli dicevano che c'erano delle persone che facevano i mercanti gli dicevano ma non si vergognano a spendere a passare tutta la vita semplicemente a far denaro però certamente in una società mercantile l'idolo della società mercantile è il mercante ci sono vie d'uscita per chi ama la conoscenza per chi capisce che la sostanza è quello che conta vedere uno con tanti miliardi e vi ho raccontato già raccontato quella storia in cui una volta dovendo fare una foto con uno di questi uno dei più ricchi uomini d'America io mi rifiutai di andare alla foto e i miei colleghi ma come non si è venuto ma perché avrei dovuto fare una foto che cosa ho in comune io con questo signore se voi ha un conto con diversi miliardi di dollari allora se voi mi aveste detto è uno che ha una libreria di diversi miliardi di volumi io sarei stato lì primo tra tutti anzi avrei fatto a gomitate per potergli stringere la mano e abbracciarlo ma mi hai detto che ha tanti miliardi che cosa però i nostri criteri ormai sono così scombinati sono così del contrario che non queste cose non le percepiamo più e poi appunto queste persone sono di una banalità di una piattezza di una però questo voi perché pensate che noi abbiamo tutti questi discorsi sulla società aperta non è per Popper che era un povero desaziato ma è per detto che Popper l'autorità abbiamo detto dell'autorità che brutto che brutto 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 qui il conformista subito trova il conformista che però Popper non se l'ha letto io Popper l'ho letto tutto tutto io Popper l'ho pure visto una volta il conformista però sa che Popper è grande è bravo io Popper l'ho incontrato non c'era niente di grande e niente di bravo così come l'ho incontrato Soros il quale è stato allievo di Popper e siccome appunto persone così piatte e banali vengono attratte da messaggi piatti e banali questo si è messo in testa che è questa società aperta che è importante ebbene io la trovo una cosa meravigliosa perché vedete quando uno dice una cosa per trent'anni e dice la società aperta è una emerita sciocchezza non significa per niente quello che loro vogliono fare credere l'ho raccontato già anche qui quella volta quando presenziai questo congresso con il grande professorone della sapienza che parlava di Popper ebbene la società aperta adesso si rivela come una società del lockdown io la trovo un'ironia stupenda se avessimo ascoltato agli inizi questi discorsi in cui si diceva guardate che quei discorsi lì sono discorsetti buoni per per la prima superiore forse non sono discorsi che possono essere portati avanti con gran trambusto dalla da come se fossero discorsi culturali ma sono portati avanti perché appunto se un biliardario si convince di una cosa è in grado di finanziare tutti quelli che ne parlano chi detiene i mezzi determina i fili ma chi detiene i mezzi determina anche il discorso infatti lui stesso si picca di scrivere libri io ne ho letto uno dei suoi testi sono testi molto modesti in realtà tranne quando parla di questioni finanziarie dove è competente ovviamente ma quando parla di temi filosofici di temi razionali di una banalità che è scomulgente ebbene questo scritto un libro in difesa della società aperta che però finisce nei lockdown torniamo di nuovo ai paradossi orvelliani con cui ormai abbiamo a che fare costantemente partito della libertà che per le chiusure la società aperta che finisce nei lockdown ma non meraviglia proprio in questi giorni ricevo questa prima email di questi laboratori per le scuole officina filosofica una cosa brava e nella prima email ho visto che c'erano degli errori gravi di italiano ho detto ma questi insegnanti che fanno corsi questo e l'altro e poi ricevo un'altra email dove mi dicono link corretto ho detto vabbè magari hanno anche corretto l'italiano no l'italiano continua ad essere scorretto vedete questi di nuovo i paradossi noi siamo in una società in cui esistono delle persone che fanno dei workshop workshop perché poi workshop perché non gruppi di lavoro perché perché fanno dei gruppi di lavoro per insegnanti e cominciano con guardate oppure per avviare in classe una dialogo ma è utico mamma mia ci mettono pure il povero Socrate in tutto questo è ovvio che poi in un contesto così squinternato in un contesto così culturalmente povero e deprivato e poi ci puoi mettere tutto ci puoi mettere il costituzionalista che ti dice che le norme anticostituzionali sono vere il presidente che ti dice che non bisogna invocare la libertà cioè ossia un principio costituzionale ci puoi mettere tutto ci puoi mettere appunto questo italiano un salubre così come ci puoi mettere appunto le contraddizioni una sopra l'altra e nessuno le nota più questo articolo su New York Times dice l'opinione di questo dice la pandemia del secolo non ha finito di mettere in disordine la politica la cosa interessante è che subito dopo sotto c'è un altro articolo in cui questa dice la guerra al terrore la guerra contro il terrore era corrotta dall'inizio ah dopo vent'anni esce un articolo così messo lì in quarta pagina raccontando una cosa che sapevamo tutti dopo ci sono voluti vent'anni perché apparisse su una gazzetta però quando io leggo questo non metto questo in connessione con questo ah questa è una storia e questa è un'altra no è la stessa storia è la stessa classe politica un altro evento che lo cito qui soltanto come una una curiosità molto interessante che a me ha colpito devo dire è quello che è avvenuto in questi giorni sul muro occidentale del di Gerusalemme alcuni hanno notato che queste piante cominciano a formare il nome dell'omnipotente in ebraico ovviamente vedete manca soltanto una lettera affinché il nome dell'omnipotente venga diventi completo ora la cosa che colpisce di questa vicenda che il benpensante subito dice ah ma come vabbè ma qui c'è un fatto io vedo queste tre cose sì lo psicologo da strapazzo dice la mente vede quello che la mente vuol vedere ma figlio mio ci vuole molta ci vuole molta immaginazione per pensare che questa veramente è una lettera ebraica adesso io non lo so se c'è qualche trucco qualche gioco ma è un fatto curioso che lo pongo alla vostra attenzione come abbiamo detto poi le persone ne traggono le conseguenze che vogliono trarre ricordando poi che l'antica profezia biblica dice che il messia arriverà dal muro di occidente non sto dicendo sto semplicemente dicendo che è interessante che queste queste coincidenze sono interessanti in questo caso e qui vorrei appunto chiudere sempre con una storia biblica perché la Bibbia la tradizione culturale dell'occidente è anche una tradizione etica ma è anche una tradizione in cui ci sono molti più aspetti molte più cose da da investigare da scavare da capire e c'è un passo nel libro di Daniele nel capitolo terzo in cui si parla della famosa storia del in cui dove il re Nabucodonosor Nabucodonosor e vabbè lasciamo stare l'accento adesso insomma Nabucodonosor o Nabucodonosor racconto c'è il racconto della questo fa una statua crea questo 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 idolo un idolo di 60 cubiti dice la Bibbia una statua d'oro enorme e ordina che tutti quelli che si trovano nel suo regno nel momento in cui ascoltano come dice il passaggio il passaggio dice chiunque non si prostrerà quando udirà il suono del corno del flauto della cetra e chiunque non si prostrerà per adorare sarà immantinentemente gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente ora cosa succede la maggior parte delle popolazioni non avevano problemi ad adorare un idolo però sempre i soliti si ignorarono l'ordine del re allora alcuni caldei denunziarono gli ebrei per non essersi adeguati all'ordine del re di adorare un idolo sapete che nella bibbia nella tradizione ebraica l'adorazione degli idoli è fortemente vietata cosa succede allora i tre personaggi di questo racconto ad il vero quattro perché si sarebbe anche Daniele Daniele i tre in questo caso che sono Azaria Anania e Misaele che sono noti così come Daniele è anche noto con il nome Cananeo che era Beltazar e anche loro sono noti i loro nomi Cananei erano Shadrach Meshach Eta e Abdenego il re va da loro li chiama scusate li chiama e gli chiede ma voi non adorate la mia statua dice se non lo fate verrete gettati in una fornace di fuoco ardente e il Nabucodonosor chiede ma chi è quella divinità che vi toglierà vi libererà dalle mie mani la risposta di questi tre che rifiutano di adorare l'idolo imposto dal capo politico supremo e il nostro il nostro la nostra divinità la divinità che noi serviamo questo è come scrivono al verso 17 del capitolo terzo è potente è abbastanza potente ci libererà dalla fornace del fuoco ardente ma anche se non dovesse liberarci noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto guardate come bello questo passaggio perché dice non dice il nostro Dio ci libererà no dice ci libererà ci sarebbe capace di liberarci dalla fornace ma anche se non ci liberasse ossia la nostra fede non è condizionata la nostra obbedienza all'onnipotente non è condizionata dal fatto che lui ci mette o ci toglie noi obbediamo a lui non a te noi obbediamo ad un principio di razionalità superiore ad un principio di verità che è oltre i capricci di Nabucodonosor ora la storia per chi non la conosce continua con il fatto che i tre vengono non soltanto vengono gettati nella fornace ma il re ordina che la fornace sia sia accesa sette volte di più di quanto di quello che si era pensato di fare cioè che venga proprio accesa al massimo della potenza e quando i soldati del re gettarono i tre dentro la fornace indovinate cosa succede i tre i soldati i tre rimangono indenni ed i soldati vengono inceneriti che poi è una scena che hanno ripreso anche in un famoso film di Hollywood con la è quello di Indiana Jones con la con l'arca in cui escono appunto queste fiamme inceneriscono i nazisti e non soltanto e quando questi vengono quando i tre Azaria Anania e Misaele vengono tirati fuori tutti quelli che erano i satrapi i prefetti i governatori i consiglieri del re videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo che i capelli del loro capo non erano stati arsi che le loro tuniche non erano alterate che essi non avevano neppure odore di fuoco e così Nabucodonosor disse il vostro Dio e certo si preoccupò e li lasciò stare poi Nabucodonosor anzi è quello che si accorge che c'era una quarta figura nel fuoco che lui identifica come un messaggero divino eccetera eccetera che cosa significa questa storia vedete questa storia si può leggere nella sua forma banale con ah ecco si arriva l'angelo salva no questa storia significa aver fiducia nella verità avere fiducia nella razionalità non inchinarsi all'idolo del potere sapendo che quando non ci si inchina all'idolo del potere anche se le conseguenze possono apparire catastrofiche terribili spaventose come essere arsi vivi in una fornace alla fine lo sono di meno rispetto a color che si piegano all'arbitrio della follia e dell'irrazionalità grazie